Lui sia in condizione di dimostrare, come è avvenuto in tanti altri casi, l'inesistenza di questa vicenda giudiziaria. Ma personalmente non lo conosce? Sì, sì, come no? Lo conosco e lo stimo anche. Ah, lo stima? Sì, sì, sì. Potrebbe, insomma, risolverlo nulla di fatto secondo me? Potrebbe, spero che si risolve non nulla di fatto, ma noi siamo, vedo che siete i soliti, perché noi siamo qua per discutere di politica, ma lei l'unica domanda che mi fa è su questo. Insomma, uno è indagato. Fa abbastanza schifo da parte vostra che vi occupiate soltanto di questo. No, perché Maxi Blitz mi dica allora di che cosa ci dovremmo occupare. Fate semplicemente schifo che voi... A noi facciamo schifo, ma ci sono tutti coinvolti e noi facciamo schifo. No, lei non mi fa, guardi, non mi... Ci sono tutti coinvolti e noi facciamo schifo dopo. Sì, perché voi venite qua a parlarci soltanto di questo, mentre noi dobbiamo parlare di politica. Dopodiché la vicenda giudiziaria avrà il suo corso. Lei non viene a provocarci in questo modo. Se la politica è corrotta... Allora, la politica è corrotta e va approvato. Ci stanno tre gradi di giudizio. Lei non è un giudice. Io le sto chiedendo. Viene soltanto qui a provocare. Le sto chiedendo, infatti. Noi facciamo le domande. È un nostro dovere, è un nostro diritto. Ed è il mio diritto risponderle nei termini in cui le ho risposto.